La versione non è uniforme in tutte le regioni, quindi l'augurio è che come avviene per l'Umbria venga anche per le altre regioni d'Italia. Abbiamo aperto con la carta della natura che parlava di natura e cultura ed abbiamo concluso con questo messaggio dove la cultura ovviamente è molto straordinariamente presente. Io vi ringrazio personalmente come direttore dell'Orto, mi farà un piacere se qualcuno poi dopo questo piccolo brindisi che andremo a fare dopo una comunicazione di servizio, uscendo si rifà lo stesso viale per uscire solo che invece di andare a destra per uscire si va a sinistra dove c'è un piccolo padiglione dove ci stanno aspettando per fare questo brindisi alla Leggiatelli, che mi piace chiamarla così. E quindi grazie a tutti i partecipanti, grazie anche perché siete rimasti assolutamente fino in fondo tutti compatti uniti. Ci sarà un futuro, ci sarà un futuro come impegno personale per quanto riguarda la mia attività anche all'università e anche a livello di fondazione per la flora italiana, sicuramente questo sarà un tema che continua. E sono certo che il Presidente Atelli c'era chissà quante altre idee per il prossimo futuro. Lascio la parola per le conclusioni di questi stati generali di queste tre giorni. Grazie Carlo. Ma io non so se è giusto, perché poi si finisce evidentemente per personalizzare troppo, chiamarla la Leggiatelli, certamente sono uno che non si è risparmiato nello sforzo di dare al Paese questa legge, però poi dare al Paese una legge non basta. La realtà dei fatti ci dimostra che occorre poi dare gambe alla legge affinché la legge sia poi concretamente applicata. perché è una legge che resta lettera morta, è una legge che forse non c'era ragione eppure di approvare. Certamente si chiude adesso, ma vi assicuro e vi garantisco che la faccio molto breve, si chiude questa tre giorni che in qualche modo era per noi anche una scommessa. una scommessa per tante ragioni, perché l'idea dalla quale siamo partiti era provare a capire se riuscivamo a fare quello che in qualche modo abbiamo annunciato sullo stesso mini manifesto che introduceva il programma, e cioè contaminare linguaggi, culture, esperienze che fossero diverse e a volte anche molto lontane dal punto di vista fenomenologico fra loro. Quando una manifestazione come questa finisce bisogna fare poi un punto politico della situazione, cioè che cosa se ne trae, cosa è successo. Ma la sensazione è che alcune cose ci ritornino, nel senso che siano percepibili piuttosto agevolmente. Per un verso la consapevolezza netta da parte di un po' tutti coloro che si sono avvicendati sul tavolo dei relatori, portando ciascuno il proprio ruolo, la propria esperienza, la propria voce, del fatto che su questo tema o si lavora a rete oppure nessun risultato realmente è conseguibile. E ciascuno in questo lavoro a rete deve portare ciò che sa fare, deve mettere ciò che sa fare. Il secondo punto è che tutti quelli che hanno dimostrato di avere questa consapevolezza hanno detto che hanno voglia di farlo, cioè hanno voglia di lavorare a rete. E questo mi sembra estremamente importante perché io, devo dire, ho seguito un po' tutte le quattro sessioni, mi confesso che mi è capitato almeno due volte di leggere, ma con chiarezza, sull'espressione, sulla mimica del viso di uno dei relatori che era dietro il tavolo, mentre ascoltava le cose che diceva un altro relatore, di avere quasi un moto impercettibile, per carità, di sorpresa o di spiazzamento, di senso di spiazzamento, perché o ha scoperto evidentemente delle cose che non gli erano chiare fino in fondo, fino a quel momento, oppure ha scoperto che c'era un altro che faceva cose molto vicine alle sue, ma lui non lo sapeva, che potrebbe già questo in qualche modo bastare per dare un senso alla spinta che abbiamo cercato di dare con questa operazione. Terzo punto, creare insieme, costruire un modello di linguaggio comune, in modo tale che tutte le categorie da un lato si sentano coinvolte, ma dall'altro lato si sentano addosso la responsabilità di partecipare in modo sempre più attivo a questa operazione. Oggi ho visto che c'era qui l'Avvocato Petrocchi, mi sono sentito meno solo, io sono un giurista, nella vita faccio il magistrato, quindi all'interno di questa esperienza ho evidentemente un profilo più marginale rispetto a quello che sarebbe naturale. Aggiungo che soprattutto un punto mi pare che emerga con chiarezza, è che segna un po' il filo rosso di tutte le quattro sessioni che abbiamo allineato da mercoledì pomeriggio. Quella politico-istituzionale di apertura, quella di sviluppo sostenibile di ieri mattina, quella dei professionisti del verde, delle categorie professionali più attive sul verde di ieri pomeriggio e quella della ricerca di oggi. Una ricerca che tra l'altro ha dimostrato non soltanto che c'è la voglia di lavorare insieme, cioè di mettere a fattor comune il know-how dei vari plessi che fanno ricerca nel nostro paese, ma che in realtà questo lavoro comune è già piuttosto avanti. E su questo punto in particolare mi sembra che la mattinata di oggi ci renda soprattutto un punto, cioè quello della capacità del sistema di riuscire a dare misurabilità alle criticità che toccano il tema del verde pubblico e agli effetti delle misure di risposta a queste criticità che sono mobilitabili. Questo tema della misurabilità è centrale, perché devo dire, che adesso anche in un tempo in cui può apparire difficile parlare della politica senza scagliarcisi contro, perché è anche un modo per ottenere oggi un facile consenso, ma devo dire, anche quando è in totale buona fede, molte delle evidenze scientifiche che voi avete dimostrato essere oggi disponibili, semplicemente le ignora, cioè non le sa. E questo punto è centrale, perché più noi mescoliamo mondi che sono diversi e lontani fra loro, per tante ragioni, la ragione più banale potrebbe essere quello del livello di velocità al quale si svolge la vita di mondi professionali, esperienziali, che sono lontani fra loro, per ragioni di lontananza dei temi a cui ciascuno si rivolge, più noi fertilizziamo in questa direzione e quindi consapevolizziamo in modo diffuso, più noi riusciamo a far avanzare questo movimento di spinta che tutti insieme dobbiamo creare e alimentare, più secondo me certi risultati sono a portata di mano. D'altra parte, quanto sia importante la posta in gioco, credo che queste quattro sessioni, quest'ultima in particolare, lo abbiano dimostrato, ma desidero ripetere, anche quelle precedenti hanno secondo me dato delle evidenze inattese a chi non sapeva di poterne ricavare. Da quel capitale naturale, che è una risorsa straordinaria, va estratto tutto il valore possibile. Quello che si sviluppa sul piano della qualità della vita, ma anche quello dove si congiungono tutela dell'ambiente, qualità della vita ed economia. Perché la risposta che è venuta anche nella giornata di ieri dal sistema produttivo, c'erano grossi player economici che ignoravano molte delle cose che ci siamo detti oggi, e si sono invece trovati a scoprire che quello che loro chiamano responsabilità sociale d'impresa, in realtà noi lo chiamiamo in un altro modo, ma è sempre la stessa cosa. Ci dobbiamo quindi abituare a pensare che siamo più vicini di quanto potremmo aver pensato fino a questo momento. Grazie a tutti. Di tutto.